Questa notte una motovedetta della Guardia di Finanza del reparto Nerovale ha intercettato a 10 miglia da Brancaleone, in acque territoriali italiane, una barca a vela lunga 20 metri con a bordo stipati circa 100 immigrati. La barca era condotta da due presunti scafisti che la Guardia di Finanza del reparto Nerovale di Vibbo, con base a roccella ionica, avrebbe già individuato, ma le indagini ovviamente devono ancora iniziare. L'imbarcazione, dopo circa due ore e mezza di viaggio, è stata scortata fino al porto delle Grazie di roccella ionica, dove i migranti sono stati fatti sbarcare. Non è avvenuto tutto nella piena tranquillità, poiché l'imbarcazione a vela aveva i comandi danneggiati e dunque c'è stato un grave rischio di urto al momento dell'arrivo al porto delle Grazie. Solo grazie alla destrezza degli uomini della Guardia di Finanza e i poliziotti sul molo che hanno agguantato le funi, si è riusciti ad evitare il peggio. E dopo due minuti, nella barca a vela stipati, sono usciti un centinaio di immigrati. Successivamente, vista la tarda ora, sono stati rifocillati e condotti nella tensostruttura della Croce Rossa Italiana. Questa mattina, invece, si è partiti con i tamponi molecolari e l'identificazione da parte del personale della Polizia di Stato del Commissariato di Siderno. Gli immigrati, che ricordiamo sono di varie nazionalità, si trovano quattro nuclei familiari con bimbi anche in tenerissima età, come si vede dalle immagini che abbiamo girato questa notte. Ora, dopo i risultati dei tamponi molecolari, saranno separati e spostati nei luoghi di prima accoglienza oppure nelle navi quarantena.